ancora una volta mi dovrete perdonare per la location ma non riesco a fare il video da casa sono in macchina questa volta rispetto all'altra volta non c'è il rumore dell'autostrada perché non sono vicino all'autostrada e soprattutto c'è chiaro quindi non ho bisogno della luce artificiale oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Locatelli non ero presente ma l'ho seguita naturalmente e ha offerto un paio di spunti interessanti un paio di spunti interessanti al di là vabbè delle dichiarazioni abbiamo scoperto che Locatelli era giuventino fin dalla nascita che aveva i poster dei giocatori che è un sogno che si avvera ma queste sono le cose che giustamente dicono tutti i calciatori quando arrivano in queste grandi squadre se poi in più c'è effettivamente la passione per una società della quale si è stati tifosi fin da piccoli beh è chiaro che tutto naturalmente aumenta in maniera esponenziale ma al di là di questo c'è lo spunto interessante del suo famoso gol lui racconta il gol segnato alla Juventus vi ricordate con la maglia del Milan segna Buffon un gol straordinario Locatelli no? e dice torno a casa mia nonna che era juventina spiegatata mi dice bravo per il gol ma il gol di Pianici era regolare ve lo ricordate il gol di Pianici di quella partita lì? io me lo ricordo molto bene fu annullato per un fuorigioco che non c'era fu detto che c'era una partecipazione attiva di Bonucci che in realtà non tocca il pallone e comunque era regolarissimo il fuorigioco non c'era in ogni caso fu annullato con tempistiche oserei dire da VAR intanto chiudo la portiera con tempistiche da VAR ma il VAR non c'era mi ricordo che fu annullato perché si scatenò una specie di baraonda attorno al quarto uomo o meglio all'arbitro d'area il giudice d'area diciamo così che dopo qualche secondo di questa baraonda richiamò l'attenzione dell'arbitro dicendo che Bonucci era in fuorigioco le immagini poi dimostrarono che non c'era nessun fuorigioco il tiro però era diretto di Pianici e sarebbe stato il gol di Pianici ecco mi ricordo proprio quella circostanza lì che fece un po' strano no? sembrava effettivamente una decisione da VAR in realtà non era una decisione da VAR era una decisione da baraonda che si scatenò attorno al giudice d'area che adesso non c'è più e quindi basta non possono più verificarsi cose di questo genere non ricordo che ci fu una grandissima polemica poi dopo questa situazione quando le immagini dimostrarono che il gol era regolare però vabbè la Juve perse quella partita fece una gran parata donnarumma su Chedira all'ultimo secondo se non va aderato un tiro da fuori aria vabbè comunque si disse che in un certo qual modo giustizia era stata fatta per il precedente episodio del gol di Montari in realtà insomma due cose di evidenza nettamente diversa però diciamo che alcuni commentarono in questa maniera vabbè comunque chiudiamo la parentesi perché abbiamo appunto toccato questo argomento che ci ha fatto ricordare appunto il gol di Locatelli e lui stesso oggi nel descriverlo vorrei poi rispondere a quei cialtroni che non aspettavano altro di poter attaccare questa operazione con le parole stesse di Carnevali l'avvisatore delegato del Sassuolo ti ha spiegato bene come si è svolta l'operazione Locatelli spiegando che non c'è stato nessun regalo nei confronti della Juventus ma che anzi il Sassuolo riapro la portiera perché sono di nuovo da solo non volevo giustamente infastidire vicini di auto di parcheggio ha spiegato bene che non c'è stato nessun regalo ma che anzi alla fine il Sassuolo non solo avrà i suoi 37 milioni dovuti da riscatto tra due anni obbligo bonus legati alla stagione 22-23 ulteriori bonus di 12 milioni e mezzo e poi una percentuale sull'eventuale futura rivendita da parte della Juventus quindi cari cialtroni che non fate altro che aspettare l'occasione per poter dire qualunque cosa che casualmente riguarda solo operazioni di un certo tipo sappiate che avete preso una cantonata ma del resto ma del resto alla fine chi argomenta viene sempre sbugiardato dai fatti e allora cosa succede in chi argomenta viene sempre sbugiardato dai fatti succede che praticamente non fa altro che incrementarsi la cosiddetta bava alla bocca cioè la rabbia per essere stati una volta ancora sbugiardati ma non lo ammettono di essere stati sbugiardati allora cosa si cerca? Si va a cercare ancora qualcos'altro cioè è praticamente il gioco della coperta viene tirato di qui, si scopre di là allora andiamo a vedere cosa c'è di là vediamo perché prima o poi qualcosa si troverà mamma mia che brutta vita che brutta vita no la soddisfazione è che ogni volta vengono sbugiardati ogni volta ogni volta vengono sbugiardati poi adesso diranno che i carnevali certo è servo della juventus e quindi deve dire queste cose no leggetevi bene il contratto no ma non lo leggono bene perché se no colla il castello loro devono mettere i mattoncini del castello poi se trovano un mattoncino che gli va contro beh ma quello lì non no 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 non c'è lo ignoriamo perché fai poi dopo il castello implode non esplode implode cade su se stesso Locatelli giocherà beh lui è pronto beh ci mancherebbe altro che non fosse pronto va alla Juve non vede l'ora di indossare quella maglia che probabilmente sarà quella gialla probabilmente sarà quella gialla a Udine o quella gialla o quella nera vedremo un po' anche perché la maglia di Udinese di quest'anno ricorda moltissimo quella della Juve però in ogni caso la Juve ha sempre giocato con maglie diverse giustamente a Udine no? e quindi vedremo lui è pronto però difficilmente secondo me potrà essere in campo quantomeno dall'inizio io direi assolutamente di no dall'inizio poi Balsa verrà anche lui sbugiardato ma qui non mi sento un cialtrone e va bene a proposito a proposito a proposito ragazzi veramente ma andatevelo a rivedere perché io ho riascoltato quella parte di ieri dico la cosa giusta chi vuol capire capisca ho usato il termine giusto c'è un cioè davanti che può indurre in un equivoco ok? adesso non lo dico qual è il termine perché se no poi corrono tutti e succede è finita chi ha cercato di dirmi che ho commesso un errore tra l'altro sarebbe stato un errore madornale in italiano è no no me ne sarei accorto sono il primo io ad ammettere quando sbaglio qualche cosa e quando incorro in un lapsus o no ragazzi vi garantisco che io quella parola lì l'ho detta giusta con il cioè davanti chiusa anche questa parete sono tutti a vedere ci mancherebbe altro giocherà Locatelli? no giocherà Ronaldo ma allora stando alle spiegazioni perché lo sapete no? non ha giocato la partitella la sgambata con l'Under 23 no l'amichevole che sgambata è quella che sostituisce praticamente Villarperosa ha sostituito Villarperosa perché? perché lui Quadrado un altro Pellegrini e qualche altro che mi sfugge hanno dovuto seguire un programma di lavoro personalizzato per cui non hanno preso parte alla partitella quindi questa è la spiegazione ufficiale della Juventus che dice non c'è nessuna come dire sfumatura di mercato in tutto questo bene prendiamo atto della spiegazione quanto alle sfumature di mercato io ci crederò che non ci sono il 31 il 31 quando vedrò il mercato della Juventus chiuso con CR7 in organico e quindi che ha giocato magari le prime due partite con Udinese ed Empoli che avrà qualche giorno di riposo no perché andrà in nazionale per la sosta e poi si ripresenterà per la ripresa della stagione allora ci crederò allora ci crederò io una porticina aperta alla situazione di Cristiano Ronaldo me la tengo lo dico da un po' di tempo ho detto che ultimamente sarebbe stato molto difficile perché Messi è andato al Paris Saint-Germain e quella forse era la porta aperta eventualmente per Cristiano Ronaldo però però io sono sempre lì a pensare che uno se all'occasione va due bisogna trovare o deve trovare lui una squadra disposta ad affrontare questo tipo di operazione tre che fino al 31 di agosto Jorge Mendes Mendes detto alla portoghese Jorge Mendes ci proverà a trovare questo pertugio per portare Cristiano Ronaldo lontano da Torino questa è la mia sensazione fino al 31 agosto poi vediamo non manca tanto non voglio innescare polemiche non voglio dire cose che magari possono avere pochi riscontri voglio semplicemente parlare sulla base di una esperienza di certi anni quando si continua a parlare così di una situazione quando soprattutto non c'è una presa di posizione ufficiale da parte dell'interessato che dice no io resto qui perché voglio restare qui perché credo di poter dare tanto in quest'ultimo anno qui finché non c'è una dichiarazione di questo genere a me i non dicono niente in questo senso non mi dicono niente ciao ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi a quello di mio figlio da solita filastrocca non mi ricordo neanche più mettete like mettete dislike buttatevi al telefono fate quello che volete mandatemi a quel paese quello che volete quello che volete infatti ci vediamo domani sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e sapremo un po' sulla nuova formazione sulla prima formazione ufficiale della vita ciao ragazzi ciao 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 ciao